C'è una cosa che disse Bon Marley, a noi della Ricordi, che era Aylan, lui era distributore di ricordi, che siamo rimasti tutti colpiti e che non abbiamo ancora capito se ci ha preso in giro o se ci ha detto la verità. Non l'abbiamo capito davvero perché ci sarebbe mai possibile. Perché lui aveva indovinato questo levare della chitarra? Perché arrivavano le radio dagli Stati Uniti, eccetera, e arrivavano tutte con disturbi per cui c'era questa storia del levare che lui poi l'ha usata per le sue canzoni. Non abbiamo mai capito se ci ha preso in giro o se ci ha detto la verità, però è stata una cosa carina. Rimarrà un mistero per sempre.